Sì, c'è l'amore. Sì, non si è chiamato. Ma c'è chi fosse? Non ti asciuggerò. Sì, c'è chi è chiamato. Mi è flammentato, Dio. Mi è flammentato. Sono con i TikTok, frate. Sono con i TikTok che fanno i piedi, frate. È bello, è quando io l'udiziano sa se margando. Da dove usci? Sì, sì, sì Grazie a tutti. no 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 ah 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 parla Oh, wow! Oddio! Oddio! E' un po' di nuovo! 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 Ahahah! Grazie! Poi sono pesci magici! Vivono all'asciutto, volano! Non lo so! SONisée! Ahahahahahah! Ahahahahah! Pannori, treppe raggiare. E' un po' di nuovo! Oh ah pawas! Si! Ah! Ahah! Ahahn! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, wow! No! Oh, oh, Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.